Prendevano online auto, trattori, scavatori, scooter, ma tutti i beni erano in realtà inesistenti. Per questo 18 persone sono state arrestate, 8 ai domiciliari, nell'ambito dell'operazione Nassa 3.0, condotta dalla Polizia Postale e coordinata alla Procura della Repubblica di Palmi. I provvedimenti sono stati firmati dal GIP Manuela Morrone, su richiesta del PM Giorgio Panucci e Salvatore Rossello. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla truffa, al riciclaggio, alla sostituzione di persona e al trattamento illecito dei dati personali. Tutti, secondo il PM, appartenevano ad un sodalizio criminale operante sui versanti ionico e tirrenico della provincia di Reggio Calabria. Secondo gli inquirenti, gli arrestati avrebbero utilizzato una serie di ingegnosi stratagemmi per coprire le proprie effettive identità e un modus operandi organizzato e complesso, attraverso il quale gli acquirenti sarebbero convinti della genuinità della compravendita. Le vittime versavano l'importo su carte ricaricabili o conti bancari risultati intestati ad alcuni indagati, senza però poi ricevere i beni. La truffa, dal 2016 al 2018, avrebbe fruttato 200 mila euro a fronte di 85 episodi individuati. Numerosi sono i rapporti finanziari, conti correnti, carte di credito, debito e prepagate utilizzate per far confluire le somme versate dalle vittime. Ancora più numerosi gli apparecchi telefonici, le utenze e le SIM card impiegati per la conduzione e l'esecuzione delle trattative per lo scambio di informazioni finalizzate all'inserimento degli annunci su diverse piattaforme e-commerce utilizzate e ritenute fittizi dagli investigatori. Il GIP ha evidenziato l'esistenza di un pericolo attuale e concreto di reiterazione dei delitti. Secondo gli investigatori, infatti, ci sarebbe stata una sistematicità nelle condotte messe in atto dall'organizzazione. Gli arresti sono stati eseguiti a Siderno, a Locria, a Gioiosa Ionica, a Danoia, a Galatro e a Giffone e a uno in provincia di Messina.